Buongiorno, inizia una nuova giornata, una nuova mattinata insieme a Fano TV, insieme ai nostri programmi, insieme alla Rassegna Stampa che tra poco vi farà vedere quelle che sono le notizie più importanti pubblicate sui due quotidiani che tutte le mattine scarichiamo qui sul nostro touchscreen all'edizione di Pesaro e Urbino e qualcosa di Ancona, della provincia di Ancona, il Carlino e il Corriere Adriatico. Prima però andiamo a vedere il Santo di oggi e poi il bollettino meteorologico della protezione civile per vedere un po' anche che tempo fa e che farà anche nei prossimi giorni. Oggi San Matteo, allora auguri a tutti quelli che portano questo nome importante a Matteo, è stato uno degli apostoli. Il sole è sorto alle 6.54 e tramonterà alle 19.08. Allora il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi, la protezione civile delle marche prevede un cielo sereno poco nuvoloso con temperature minime in lieve diminuzione e quelle massime in ripresa. I venti saranno meridionali di brezza leggera in rotazione dai quadranti nord-orientali durante le ore centrali della giornata. Il mare sarà poco mosso. Per la giornata di venerdì domani avremo ancora cielo sereno, temperature in lieve ripresa, ancora un po' di venti orientali lungo la costa. Poi sabato, sabato 23 ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento. Ancora un po' di venti, il mare sarà poco mosso. Avremo però possibili condizioni di lieve instabilità dalla seconda parte della giornata di domenica fino a quella di lunedì. Il Corriere Adriatico questa mattina apre con la notizia che le ruspe hanno abbattuto il palazzo dormitorio che si trova dietro la stazione dei treni. La stazione è avanti con la bolifica mentre i carabinieri continuano i controlli al parco Miralfiore dove insomma in qualche modo ci sono spesso alcuni personaggi che insomma sono lì non certamente per respirare l'aria buona oppure per fare una passeggiata. Insomma il braccio meccanico scrive il Corriere Adriatico questa mattina della ruspa entra nelle pareti in muratura con un ritmo incessante, anni di incurie e di abbandono che hanno fatto di quelle strutture uno dei simboli del degrado nel parcheggio dietro la stazione di Pesaro spesso al centro di problemi legati alla sicurezza, bivacchi e ultimamente anche era diventato anche un dormitorio. Mentre la fotografia del Corriere Adriatico è tutta per Valentino Rossi che dice io sono pronto per Aragon, vale scioglie dunque la proniosi, il chirurgo dà l'ok per partecipare, domenica in sella nel Gran Premio. Pascarella il medico dice recupero in metà del tempo, una cosa davvero straordinaria. E poi tra poco vedremo anche la cronaca, anzi lo facciamo subito, entriamo nella pagina interna del Corriere Adriatico con la cronaca che arriva da Fano, un colpo di sonno, un colpo di sonno terribile che ha avuto questa mamma che stava viaggiando in auto insieme alla figlioletta di dieci anni e a un certo punto questo colpo di sonno ha fatto sì che l'auto sbandasse e finisse contro un albero ed è successo sulla panoramica dell'ardizio tra Fano e Pesaro. La donna perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero, la piccola di dieci anni sbatte la testa sul sedile, emorragia cerebrale per lei trasferita alla Salesi in rianimazione. Sono Fanesi, madre e figlia, che l'altra sera intorno alle 22 sono rimaste coinvolte in questo grave incidente sulla strada dell'ardizio mentre scendevano a bordo di un Opel Corsa in direzione Fano verso Fosso Segliore. L'articolo lo troverete sul Corriere Adriatico di questa mattina. stava rientrando a Fano a casa, per lei lievi ferite e uno stato di shock. Il resto del Carlino su questa notizia, pagina 11, schianto grave una bimba autoguidata da una mamma contro un albero. Forse un colpo di sonno, la piccola di dieci anni ricoverata al Salesi. Al volante c'era la mamma di 29 anni mentre la bambina di 10, la quale si trovava nel sedile posteriore. Al volante chiaramente c'era la mamma mentre appunto la bambina sul sedile posteriore. Improvvisamente l'auto ha deviato verso destra dove c'è una file di alberi e si è schiantato contro una grossa quercia. E poi la notizia che il Papa, il Papa Francesco ha incontrato la famiglia Ferri. La visita, oggi l'udienza in Cassazione. Papa Francesco ieri invece ha ricevuto per la seconda volta Michele Ferri, fratello di Andrea, l'imprenditore che nel 2013 fu ucciso da Donald Sabanov, un suo dipendente che dovrà scontare l'ergastolo e da Karim Bari, condannato a vent'anni di carcere. Oggi a Roma ci sarà l'udienza in Cassazione. Il Papa ha voluto incontrare, dimostrare la sua vicinanza appunto alla famiglia Ferri. La pagina di fano del Corriere Adriatico. La manifattura va, ma crollano il turismo e il terziario. La segretaria della CGL vede luci ed ombre per la città di fano. Il lavoro femminile è sempre e solo precario. Parla Simona Ricci, segretaria provinciale della CGL, che dice la ripresa è debole, con scarsa fiducia per gli investimenti. E poi la pagina di fano invece del resto del Carlino. un cane iperprotettivo impedisce i soccorsi alla padrona. La donna ferita riesce a chiamare il 118, ma l'animale non fa avvicinare nessuno. E poi sotto a giornata dell'Alzheimer, incontri per capirlo. La cooperativa Labilinto organizza degli appuntamenti, mentre c'è l'appello dell'Opera Padre Pio di San Paterniano di Fano, l'appello a non lasciarli soli, lasciarli soli soprattutto nella distribuzione di tanti pasti nella mensa. Pensate nel 2016 l'Opera Padre Pio ha distribuito qualcosa come 33.800 pasti. E dunque i poveri non sono soltanto stranieri. Tanti hanno anche la pensione. Sabato la festa dell'accoglienza promossa dall'Opera Padre Pio. I numeri dell'assistenza dunque sono in crescita. La Presidente Laura Ciconi lancia l'SOS. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per aiutare tutti quanti. La prima pagina del resto del Carlino di Pesaro è per i controlli. Come dicevamo, il blitz dei carabinieri al Mirafiora, al parco, cocaina nascosta negli alberi, dentro palline da tennis, fermati spacciatori extracomunitari. Quanta droga nel parco, questo è il titolo. Poi Valentino Rossi che va ad Aragon in cento, identificati invece per il furto delle lastre all'ospedale Torrette di Ancona. Cento persone sulle quali si indagherà per capire chi ha sottratto le lastre del campione di moto. Si chiude il pozzo del Burano ma non si chiudono non si placano le polemiche. Poi i ladri, ancora cronaca, con la super spaccata Montecchio, famiglie narcotizzate in casa, un camion a riete sulla vetrina della profumeria Cap. Dunque ladri scatenati, mentre sul Carlino, la pagina di Fano, si parla ancora della cena, la cena degli ex amministratori di Aguzzi, come un boccone indigesto, dice Maria Antonia Cucuzza che lancia e spara a zero. Maria Cucuzza è di Forza Italia, il centrodestra nemmeno c'era, dice lei. Una cena all'adversa, dice un po' in fanese, dove il centrodestra, a parte Francesco Cavaliere e Simone Antoniozzi, era poco rappresentato. Questo è l'attacco dell'intervista che ha realizzato Anna Marchetti questa mattina appunto all'ex amministratrice di Fano. Finita l'emergenza, chiuso il pozzo del Burano, nuove accuse degli ambientalisti sulla gestione di questa importante riserva d'acqua, mentre a Monte Felcino, ricorda il resto del Carlino, torna fino a domenica sera la festa dell'uva. Si inaugura oggi l'undicesima edizione della festa dell'uva, una quattro giorni settembrina dedicata al frutto della vite, che quest'anno a causa del solleone della siccità è stato già vendemmiato. Stasera dunque si parte con una commedia dialettale, poi ci sono tanti appuntamenti fino a domenica, lo ripeto, nel bellissimo borgo di Monte Felcino. A proposito di immigrazione, l'intervista questa mattina a Don Marco De Franceschi, è il parroco Don Marco della parrocchia del porto di Pesero, che dice la soluzione al problema è l'accoglienza e quando si tratta di delinquenza dice lui italiani e stranieri non sono diversi e in effetti è così. Dobbiamo liberarci da questo razzismo latente, capire che quelle sono persone che soffrono e creare partecipazione. Anche la chiesa, dice Don Marco, aiutiamo molte famiglie islamiche, a chi bussa alla nostra porta non chiediamo di che religione siano e quindi questa è la ricetta di Don Marco. La terra di nessuno, dicevamo, di quella struttura fattiscente che si trova, anzi si trovava, ma comunque si trova, sì, dietro alla stazione di Pesero, ecco, questo era quello che poi ultimamente era diventato un dormitorio, guardate le ruspe hanno abbattuto, stanno abbattendo, questa è la foto di ieri, stanno abbattendo tutto l'edificio e quindi ormai lì nascerà un grande parcheggio. Da Urbino invece l'Unione Montana bacchetta la lista civica CUT, liberi tutti, tutto in regola dicono loro per il Canile, Piero Antoni, capienza ripristinata, pronte a partire con la nuova gestione. Il Burano chiuso il rubinetto, ora i risultati degli studi, invasi ormai quasi a regime, non c'è più bisogno dell'approvvigionamento del Pozzo. E poi dalla Valle del Cesano il Tartufo, il Tartufo siamo a Pergola, sposa l'oliva scolana, a Pergola le eccellenze regionali, nelle prime tre domeniche di ottobre c'è la fiera che ospita anche l'aeronautica militare. Il sindaco di Pergola Francesco Baldelli dice il programma è ricchissimo e ci saranno prodotti di qualità, sarà un'altra edizione da record. Poi da Terre Roveresche invece il sindaco del Coppia e Incolla è senza idee, la minoranza si schiera contro il sindaco di Terre Roveresche Sebastianelli, pensi ai problemi e non ai media e non a farsi in qualche modo pubblicità. La polizia cerca droga al campus, applausi di dirigenti e genitori, tre pattuglie del commissariato irrompono tra gli studenti e frugano negli zaini. Dunque c'è stato questo blitz a Senigallia, il campus scolastico, ieri mattina dove la polizia ha perquisito numerosi zainetti, fermando gli studenti in procinto di raggiungere le classi, un controllo a sorpresa che ha coinvolto tre volanti del commissariato e che cosa hanno detto i genitori? Bravi, continuate così e noi stiamo e saremo ancora più tranquilli chiaramente. E allora ci fermiamo qua, la rassegna stampa è finita, ringrazio tutti voi per averci seguito, saluto anche coloro che ci seguono attraverso Facebook e YouTube, infatti da oggi tutte le volte che noi andremo in diretta sia con la rassegna stampa che con il telegiornale ma anche con le straordinarie, con gli eventi, con tutto quello che verrà in qualche modo deciso di volta in volta, quindi si darà la possibilità anche che ci segua attraverso la rete, attraverso internet e soprattutto i social network di vederci in diretta. Quindi un saluto anche a voi, grazie per averci seguito, questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.